Li chiamava nipotini ed era ben lieto di soddisfare le loro curiosità esortandoli a non aver paura di realizzare qualcosa perché sbagliando si impara. Kenjiro Azuma, autore della goccia esposta in Piazza Pasquoli, avrebbe compiuto 91 anni. Scomparso 5 mesi fa, Matera omaggia lo scultore nipponico ricordando i momenti di incontro e confronto vissuti nelle scuole con le insegnanti e gli alunni dell'istituto comprensivo Padre Minozzi e Nicola Faista. Ne è nata una mostra inaugurata e allestita a Palazzo Lanfranchi in cui è stato interpretato il pensiero dell'artista utilizzando materiali appartenenti alla quotidianità e ispirati dunque alle sue opere. Abbiamo avvicinato i bambini alle sue opere, in particolare alla goccia che li ha affascinati e ammaliati facendo scaturire interrogativi riguardanti l'inizio della vita, la bellezza, la perfezione, l'infinito e che ha prodotto tutti questi lavori che oggi possiamo ammirare, hanno detto le insegnanti. Un grazie immenso al maestro Azuma che smuoverà per sempre spiriti e menti con la sua opera. La mostra resterà aperta fino al 3 aprile e potrà essere visitata tutti i giorni dalle 9 alle 20.